Allora, dopo gara interessante questa sfida, anni nuovi Ciampino, Minturno si chiude in parità come all'andata, uno dei protagonisti importanti, determinanti per il Ciampino, nelle battute finali arriva questo pareggio. Te ringrazio e innanzitutto siamo felicissimi, comunque affrontavamo una squadra importante che ha fatto un mercato di riparazione importante, una piazza importante, quindi voglio dire, c'erano tutti i presupposti perché uscisse fuori una bella partita, spero che sia stata per quel pubblico che ci ha assistito. Io faccio i complimenti al Minturno perché comunque sia sta facendo un cammino importante in questa categoria e noi stiamo là, noi cerchiamo giorno per giorno di migliorare, cercare di rosicchiare quei punti che servono per stare lì in testa. Ecco Moroni, prima di lasciarti, comunque all'abbraccio anche dei tuoi compagni, è proprio difficile fare punti su questo campo, in questo palazzetto, non avete mai perso punti? Beh, questo per noi, a parte che come penso che tutte le squadre quando giocano in casa hanno quell'arma in più, però per noi questo è un paladarquini che quando serve, quando sono le partite importanti, la squadra risponde sempre che c'è e comunque fa vedere che è viva e questo è l'importante. Io faccio un augurio a tutti quanti, grazie di tutto, spero che si sono divertiti quelli che sono venuti a vederci e che continueranno a venirci a vedere.